gentili telespettatori buona giornata parliamo ancora dello spot essi lunga che ha fatto tanto parlare in questi giorni anche luca ricolfi intellettuale dice la sua dice come il generale vannacci in che senso secondo luca ricolfi ci sono due ragioni per le quali oggi si parla solo di questo spot questa pubblicità dell'esse lunga la catena di supermercati che conoscono tutti perché c'è stato tanto successo per una cosa del genere la premessa è questa il messaggio è limpido e semplice la bambina è triste perché i genitori sono divisi e ricorre a un piccolo sotterfugio nella speranza di farli tornare uniti c'è chi dice che lo spot strumentalizza il dolore dei bambini per fini commerciali bersani vabbè insomma c'è chi invita a riflettere sul carrello degli italiani per molti dei quali anche una pesca rischia di diventare un lusso frato gli anni c'è chi legge lo spot come un attacco alla legge sul divorzio e chi viceversa si vede un omaggio alla famiglia tradizionale c'è chi insorge a difesa dei genitori che divorziano e chi spiega che non tutti i figli dei genitori divorziati sono infelici così come non tutti i figli di genitori sposati sono felici vabbè c'è qualcuno che vuol mettere qualcos'altro vogliamo commentare tutti gli spot del mondo vogliamo commentare tutti i film sembra a me sembra assolutamente ridicolo però il sociologo dà delle sue interpretazioni a questo fenomeno tutti discutono della pubblicità destra sinistra perché ha suscitato tanto interesse tanto consenso dice ricolfi è che uno dei pochissimi spot che non trasmette un'idea di un'idea stereotipata banale e sostanzialmente falsa della realtà qui la realtà irrompe mostrando la normalità del dolore perché la normalità non è la famiglia mulino bianco bensì la famiglia che si è spezzata e si sta spezzando visto che il numero di separazioni divorzi ha ormai raggiunto il numero dei matrimoni leggevo un articolo sono più i singoli in italia delle famiglie per esempio a milano la maggior parte sono single vivono tutti da soli ricolfi dice il massiccio consenso allo spot è parallelo e affine a quello che ha accompagnato il libro best seller del generale di divisione vannacci la normalità e la sua rappresentazione suscitano scandalo nelle eliti intellettuali e politiche ma riscuotono l'approvazione non di rado entusiasta di tanti cittadini comuni che si riconoscono diciamo che possiamo dirlo così riconoscono più verità e umanità nello spot della pesca che in tante contese mediatiche spesso lontane mille miglia dalle sofferenze quotidiane di tanti non avete visto gli spot ultimi dove in tanti spot c'è tutta gente che si dimena che balla col cellulare che fa tutte le scene dici ma ma cos'è sta pagliacciata ma non avete visto le pubblicità che sembrano delle buffonate rappresentano una società che se tu osservi bene queste pubblicità rappresentano un mondo stupido stupido no quelli che vanno a fare la spesa e ballano quelli del cellulare che ti fanno la scenetta quella che ti fa così così e si fa il selfie dite ma cos'è sto mondo è diventata una schifezza una schifezza un mondo del genere andrà incontro e ripeterà le cose che sono successe il secolo scorso perché un mondo così stupido non è che va lontano un mondo così stupido fra qualche anno sarà in guerra sarà una guerra mondiale perché un mondo davvero così stupido dove rappresenti le sciocchezze poi arriva una pubblicità che ti dice che ti fa una fotografia della realtà e la gente dice allora in quello spot non si dimena nessuno non c'è nessuno che fa saltare la pesca che se la lancia da un carrello all'altro no è uno spot è realista non è uno spot che rappresenta il mondo in modo farsesco grottesco ridicolo il libro del generale vannacci dice tante cose che la gente comune pensa che però non può dire perché viviamo sotto la dittatura del politicamente corretto del pensiero unico opinioni che vengono oggi censurate oggi di alcune cose sapete non si può parlare nel bene nel male non le puoi nominare ci sono tante cose che io non posso tanti argomenti che io non posso neanche nominare guai a nominare ma guai a dire alcune parole o fare un video su un argomento tu dici quali argomenti e non te lo posso dire perché solo nominare l'argomento il politicamente corretto ti detecta che ti fa fuori voi direte già eh sì è proprio così io di alcuni argomenti non ne posso proprio non li posso neanche nominare ma neanche nominare io una volta in mezzo a un video ho detto una parola per ridere su una cosa che aveva fatto salvini anche lui per ridere mi hanno rimproverato eh fallo un'altra volta e con noi è finito all'interno di un video una mezza parola in un video che parlava di tutt'altro quindi una roba fuori contesto che era solo guai ma non era non offendeva assolutamente nessuno questo per dirvi che quando poi arriva un libro come quello del generale vannacce che dice pubblicamente quello che la gente non può dire non può neanche osare di di pensare quando arriva una pubblicità che ti fa vedere che non è la famiglia del mulino bianco ma è la famiglia che vale se lunga quella di tutti i giorni dove ci sono più separati che matrimoni dove ci sono più singoli che matrimoni ecco fa scalpore perché c'è qualcuno come l'esse lunga e come il generale che hanno il coraggio di far vedere la normalità di rappresentare la normalità cioè quello che la gente fa e quello che la gente pensa nel libro del generale vannacci c'è sono tanti concetti che la che la maggior parte delle persone pensano ma che non possono dire e nella pubblicità dell'esse lunga viene rappresentata la stragrande maggioranza delle coppie che vanno in frantumi che è la maggioranza e allora queste cose rappresentano improvvisamente la normalità rappresenta lo scoop c'è qualcuno che dice la verità c'è qualcuno che dice le cose come stanno c'è qualcuno che dice quello che pensa senza preoccuparsi del pensiero unico e della sua dittatura di sinistra ma il pensiero unico non è di sinistra eh sì è stato adottato il politicamente il pensiero unico il politicamente corretto e la cultura della cancellazione è stato adottato proprio dalla sinistra poi le parole del generale vannacci possono essere discutibili sono sue opinioni ma lui le ha scritte in un libro e questo lo scoop c'è un generale che era già famoso che ha scritto quello che pensa in contrasto al politicamente corretto l'esse lunga ha osato fare una pubblicità perché attenzione tutto parte dalla famiglia tradizionale poi sono arrivati alla separazione ma guardate che tutto parte dalla contestazione della sinistra che l'esse lunga amica delle lamelloni ha osato fare una pubblicità dove c'è una mamma e un papà questo è il punto di partenza poi si è finiti a parlare del divorzio del bambino ma tutto nasce dalla famiglia tradizionale rappresentata arrivederci a tutti